Mantenere alta la guardia sullo stato di salute della campagna dell'agro nocerino sarnese è l'appello lanciato dai residenti nelle zone rurali della Valle del Sarno, fatto proprio da Vittorio San Giorgio. L'ex presidente nazionale dei giovani di Coldiretti e già massimo rappresentante provinciale salernitano dell'associazione di categoria lancia l'astag non abbandoniamo la campagna dell'agro nocerino. San Giorgio ha approfittato della provocazione del sindaco di Nocera Inferiore, Maglio Torquato, che a Ferragosto ha fatto per protesta una passeggiata nell'alvio comune a Nocerino per alzare il velo sullo stato pietoso in cui versano le campagne dell'agro, in particolare le zone di confine tra Nocera Inferiore e Pagani. Vittorio San Giorgio ha così fatto un giro per le strade di campagna attraversate dall'alvio comune, ha scritto su Facebook, e dove c'è una grande vasca di laminazione. La sua riflessione è stata, il senso civico sicuramente deve essere importante al centro della città per tenerla bella e decorosa, ma la campagna e le sue strade, ha scritto, non sono secondarie, tra l'altro sarebbero molto più invitanti per una passeggiata in bici. Ha così postato le foto di via Vasca, via Galilei, via Del Rosto, zone di Nocera Inferiore che sembrano come abbandonate, rifiuti a bordo strada, erbacce e sporcizia. Attenzione alla bellezza a Monito San Giorgio perché quella si trova anche in una strada di campagna pulita. Insomma, non solo la sacrosanta attenzione ai fiumi e allo smog che attanagliano il centro delle città, ma anche spostare lo sguardo verso le periferie che stanno morendo sotto il peso delle micro discariche abusive e di una manutenzione inesistente. Grazie. 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 Grazie.